È un periodo così, è un periodo dove nella prima mezza calzata ci puniscono, sicuramente gli arbitri non ci danno la mano perché vedete si fa via, vedete si come una scorsa, vedi oggi. Però come ha detto il mister più volte non si può allenare quello lì, perciò non dipende da noi, noi sicuramente dobbiamo farci un esame di coscienza tutti, bisogna pedalare, c'è poche chiacchiere da fare purtroppo, la classifica parla e la classifica dice che dobbiamo fare punti, perciò non c'è nulla da dire, se non bisogna pedalare basta, bisogna lavorare.